Ci sono dei comuni in Polonia che sono dichiarati LGBTI free, cioè hanno detto qui non vogliamo omosessuali, non vogliamo gay, non vogliamo lesbiche, ovviamente violando i diritti fondamentali e la Commissione Europea su nostra richiesta ha sospeso i fondi destinati a quei comuni come sanzione contro questa violazione delle libertà pubbliche. È un primo passo, noi vogliamo che questo accada sempre. Beh, innanzitutto adesso non è il film prova a prendermi, Giuseppe Conte non deve recitare Leonardo Di Caprio, l'Italia deve fare due cose, il Parlamento nazionale deve ratificare rapidamente la decisione europea e il governo deve mettere insieme la strategia per il bilancio nazionale del prossimo anno e quella per utilizzare i fondi. La decisione che è stata presa di utilizzare il Comitato interministeriale per gli affari europei, per la programmazione può essere la scelta giusta. Io l'ho usato, l'ho preceduto quel Comitato e mi ha permesso di dimezzare le infrazioni europee dell'Italia. Ho fatto risparmiare agli italiani ai contribuenti più di 2 miliardi di euro con quel Comitato, quindi se quella è la via, è certamente una via importante per la programmazione, ma bisogna che i soldi poi arrivino ai territori, alle famiglie e alle imprese, quindi bisogna assolutamente semplificare la burocrazia italiana. L'Italia vuole impegnarsi nella transizione ecologica, l'Italia vuole impegnarsi nella trasformazione digitale, l'Italia vuole dare aiuti alle imprese in difficoltà, al settore del turismo. Se l'Italia vuole fare queste cose, che sono obiettivi comuni che perseguiamo in tutta Europa, deve utilizzare il recovery plan. Il recovery plan, il piano di rilancio, dice esattamente questo e quindi da questo punto di vista non vedo assolutamente dove sarebbe l'inganno o, per utilizzare le loro parole, dove sarebbe la fregatura. Ora il Parlamento deve lavorare su due punti. Dovrà spingere per chiarire il calendario delle nuove risorse per l'Unione Europea, perché questo piano di rilancio non si finanzia chiedendo più soldi ai governi, non si finanzia certamente chiedendo più soldi ai contribuenti, si finanzia chiedendo più soldi a chi inquina, ai giganti del digitale. Questo calendario di risorse proprie deve essere molto chiaro e poi bisogna assicurare che il Parlamento Europeo decida insieme al Consiglio l'attuazione del piano. L'altro punto su cui dobbiamo lavorare invece è il lavoro ordinario. Ogni sette anni l'Europa decide quali risorse destinare per quali obiettivi per i sette anni successivi. È il bilancio ordinario. È stato diminuito. Ci sono meno soldi per la ricerca, ci sono meno soldi per Erasmus, ci sono meno soldi per la difesa. Ecco, noi dobbiamo lavorare per riequilibrare, perché certamente occorre rispondere alla crisi, ma occorre anche preparare il dopo crisi. La contraddizione del Governo del Presidente Conte è che ha chiesto di prolungare lo stato di emergenza, quindi se c'è l'emergenza vuol dire che c'è la necessità di raffortare il sistema sanitario. Se vogliamo raffortare la sanità ci sono 37 miliardi pronti che sono quelli del MES, che non hanno nessun'altra condizione se non quella di dire vi diamo questi soldi, utilizzateli per rifare gli ospedali, digitalizzare la sanità, raffortare i reparti di terapia intensiva, hai sovranisti alla matriciana stile Meloni o Salvini. Ma scusate, non ci sono interessi, sono soldi gratis, tu pensi che ti vogliamo fregare? È un argomento assolutamente strampalato di gente che ha votato e negoziato il MES, quello duro della Troica, e oggi, che è un meccanismo completamente diverso, fanno inutile propaganda a spese di italiani. Sì, una battaglia che porto avanti con tanti altri da molto tempo, abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo legato l'utilizzo dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. In sostanza non puoi fare l'autoritario con i soldi comuni europei, questo vale all'interno dell'Unione Europea, ed è una novità, questo deve valere all'esterno e credo che ad esempio l'Unione Europea debba reagire molto duramente rispetto alle violazioni dello Stato di diritto che stanno accadendo a Hong Kong. Ci sono dei comuni in Polonia che sono dichiarati LGBTI free, cioè hanno detto qui non vogliamo omosessuali, non vogliamo gay, non vogliamo lesbiche, ovviamente violando i diritti fondamentali, e la Commissione Europea, su nostra richiesta, ha sospeso i fondi destinati a quei comuni come sanzione contro questa violazione delle libertà pubbliche. È un primo passo, noi vogliamo che questo accada sempre, che quando la Polonia di Kaczynski, quando l'Ungheria di Orban, quando domani un governo autoritario in un altro paese viola le libertà fondamentali garantite dall'Unione Europea, l'Unione intervenga a tutela dei cittadini contro un governo che viola i diritti di quei cittadini. Grazie a tutti.